Alberto Bilardo ha una gran voglia di vivere, di amare e sognare. Lo si capisce se si riesce a superare una prima barriera di pregiudizi e stereotipi. In questa società che tende solo ad espellere, Alberto dovrebbe essere un disabile, magari da tenere in carrozzina e portare a spasso di tanto in tanto. Invece, superato il primo impatto, capisci che Alberto può darti tanto, tantissimo. La vita è stupenda e meravigliosa e siccome io ho difficoltà nel rifare, quindi è come rinascere la seconda volta quando faccio le esperienze nuove e che non ci sono abituato a fare. Perché ti piace tanto la fotografia? Perché siccome io amo molto la vita e la natura, ho scoperto. La fotografia mi estimo, me stesso è la mia gioia di vivere e quindi amo circattare i paesaggi e tutte le meraviglie che ci stanno intorno. ama andare in barca a vela, più il mare è agitato e più è bello, ama viaggiare, ama la fotografia. Come ti devono vedere gli altri? Gli anni che mi devono vedere, il mondo tale che non mi devono giudicare a prima vista, mi devono conoscere, perché giustamente alcuni giudicano dal fisico, ma poi anche valore che vedono come sono io e quanto voglio di migliorare e vivere come tutti. Alcuni di questi splendidi scatti saranno messi in mostra nel Salone della Parrocchia Gesù Maria Giuseppe di Via Osonia 71 a Palermo. La mostra nel mare dintorni dura tre giorni, da sabato 31 ottobre a lunedì 2 novembre.